Transpotec 2019 Peugeot espone a Verona due dei modelli più richiesti anche sul mercato italiano Il protagonista è sicuramente il nuovo Peugeot Partner un veicolo molto apprezzato nel corso degli anni anche in Italia che si presenta totalmente rinnovato una nuova generazione del mezzo più compatto da lavoro della gamma Peugeot fresco vincitore del premio di Vanovedere 2019 un mezzo davvero molto valido, molto tecnologico perché introduce importanti novità uno tra tutte è sicuramente la Surround Rear Vision un sistema di telecamere che permette la visione anche laterale del veicolo è un elemento critico dei furgoni ma soprattutto anche l'indicatore di sovraccarico una tecnologia che permette di individuare immediatamente l'eventuale sovraccarico del veicolo con apposite segnalazioni nel quadro strumenti e nella parte posteriore del vano di carico un mezzo molto interessante anche a livello di motorizzazioni dotabile del cambio automatico EAT8 nella motorizzazione diesel blu HD da 130 cavalli ma soprattutto per la prima volta nel settore dei veicoli commerciali vede l'introduzione del Peugeot E-Cockpit quel concetto rivoluzionario pensato dalla Casa del Leone e declinato nel mondo delle autovetture fino ad oggi al suo fianco esponiamo un veicolo di grande successo anche nel mercato italiano Peugeot Expert un veicolo da lavoro di media lunghezza disponibile in tre diverse configurazioni 4,61 m, 4,96 m o 5,31 m e alto 1,90 m un veicolo che ha raggiunto le 5 stelle in termini di sicurezza nei test Euro NCAP e dotato di diverse tecnologie e di sistemi di assistenza alla guida i famosi ADAS il prodotto è sicuramente importante ma lo sono anche i servizi infatti Peugeot mette a disposizione dei propri clienti i servizi di Free2Move Free2Move Connect Fleet è un sistema, un'applicazione che permette la gestione di quello che è il parco vetture delle aziende monitorando i percorsi, i tempi di sosta, gli stili di guida ma anche i consumi e gli eventuali allarmi dovuti alla manutenzione è disponibile anche il servizio di Fleet Sharing un sistema che permette la condivisione di diversi mezzi da lavoro all'interno della stessa azienda con più utenti, più dipendenti un sistema quindi che permette una sorta di car sharing interno aziendale monitorandone quelle che sono le caratteristiche a livello di informazioni fondamentali per chi si occupa del parco vettura